Per me l'automobilismo è una passione mai soppita. Rientrare in pista con la BMW nel Mondiale Turismo fu un'avventura estremamente affascinante, anche perché comunque in un campionato estremamente competitivo, però dopo essere riuscito a vincere nuovamente e aver incassato delle soddisfazioni enormi, tutto sommato cominciò a starmi un po' stretto il fatto di guidare una macchina con pochi cavalli, molto pesante, eccetera. È nata abbastanza per caso l'opportunità di guidare questa bellissima macchina che vedete alle mie spalle, anche se questa non è esattamente la macchina che io guiderò, una macchina Z4 GT3 con quasi 600 cavalli, un sacco di carico aerodinamico, una vettura molto evoluta e per cui dopo tre anni di latitanza dal mondo delle corse non ho saputo resistere alla tentazione e niente. Mi rimetto in gioco e spero sarà una bellissima avventura. L'aspetto più affascinante è certamente quello tecnico, il fatto di ancora una volta ritrovarsi a dover dialogare con tanti cavalli sotto il cofano, con delle gomme capaci anche di trasferire le a terra, molto molto efficaci, tra l'altro gomme italiane e quindi anche una vettura che tecnicamente offre la possibilità di fare tantissimi interventi anche da un punto di vista elettronico, quindi insomma competere contro avversari che poi tra l'altro guideranno macchine di grande prestigio perché stiamo parlando di GT, di grossa cilindrata, molto potenti, auto affascinanti, prima fra tutto insomma la Ferrari che nel caso è un avversario, ma in Italia è certamente un'auto che ha un rapporto diretto col cuore dei tifosi. Forse l'aspetto più preoccupante non è tanto quanto quello che potrebbe essere legato allo sviluppo dei miei comandi, dei miei meccanismi, perché insomma qui a Monaco alla Motorsport, alla BMW Motorsport, sanno il fatto loro, sono dei grandi fan del sottoscritto, ma anche del progetto a cui stiamo dando vita e certamente possono offrirmi tante possibilità che tra l'altro fino a qualche anno fa erano già più difficili da realizzare. Forse piuttosto ciò che mi preoccupa è la lunga latitanza dallo sport del motore e del sottoscritto, ci sarà certamente qualche cosa da recuperare, tuttavia insomma andiamo a scuola guida e cerchiamo di fare il nostro meglio. La prima gara è il 21 aprile e tengo le dita incrociate, e poi la seconda torno a Branzetsk, è un po' casa mia quindi.